I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno svolto servizi di controllo e contrasto del lavoro sommerso e del rispetto delle normative sanitarie nei confronti di esercizi commerciali dei territori silani. In particolare a Spezzano della Sila i militari della stazione di Camigliatello, congiuntamente ai militari dei NAS e del NIL, hanno effettuato controlli ad esercizi pubblici attivi nel settore della ristorazione e vendita di prodotti agroalimentari, all'esito dei quali è stato possibile accertare violazioni penali ed amministrative. I carabinieri hanno contestato al titolare di un locale di ristorazione l'illecito impiego di lavoratori subordinati in assenza di contratto attestante nel regolare rapporto di lavoro, nonché l'omessa custodia del documento di valutazione dei rischi con una conseguente sanzione amministrativa di circa 9.000 euro. Nel medesimo contesto operativo sono stati sottoposti a sequestro amministrativo presso due rivenditori di prodotti alimentari 143 kg di merce, a seguito di accertate violazioni inerenti l'obbligo di tracciabilità dei prodotti destinati al consumo alimentare. Per tale ragione sono state combinate sanzioni amministrative pecuniarie per l'importo complessivo di 3.000 euro.